Questa fantasia, costruita come una fettuccia, utilizza un cotone multicolor certificato GRS, un virgolino di viscosa lurex e più capi di alpaca poliamide GRS, il nostro articolo Airplane. Il risultato è quello di un filato di titolo 1.800 per la finestra 3 che nasconde la sua aggressività dietro al morbido aspetto di una soffice alpaca. Fantasia aggressiva e discreta allo stesso tempo coniuga l'aspetto sport con il tocco luminoso di un metallizzato, permettendo un'interpretazione priva di grandi lavorazioni, diventando protagonista di tramati su base leggere. Si segnalano i colori pronti in cartella.